Amiamo gli animali ma spesso non sappiamo raccontare le loro storie, per questo l'Ordine dei giornalisti del Molise ha organizzato un incontro per discutere sull'importanza del rapporto tra l'uomo e gli animali e sulla comunicazione delle notizie che li riguardano. Abbiamo avvertito l'esigenza di rispondere al fatto che si parla molto di animali senza conoscere fino in fondo il loro mondo, il loro linguaggio, le loro dinamiche e i giornalisti che hanno trattato anche a livello nazionale fatti di cronaca spesso hanno così tralasciato questo aspetto che per un buon giornalismo di qualità diventa essenziale. L'Ordine dei giornalisti del Molise cerca di promuovere momenti formativi e di comunicazione, di analisi della comunicazione in senso lato, quindi cercando anche di spaziare su argomenti e approcci anche diversi e nuovi. Il rapporto che ha l'uomo con gli animali è basato sull'empatia e l'empatia oggi più che mai è l'elemento che caratterizza una comunicazione vincente. Alla lezione è partecipato anche lo psicoterapeuta e attivista dell'EMPA Giuseppe Napolitano che ha spiegato in che modo si può comunicare con gli animali e quali sono gli errori da evitare. Oggi viviamo in un'epoca molto digitalizzata e quindi il rapporto con gli animali ci permette di riscoprire quella visione un pochettino più diretta e analogica della vita. E' importante comunicare con gli animali perché attraverso la comunicazione si crea un legame e quindi si mette in comune quello che è l'aspetto psicologico e quella che è la realtà affettiva dell'animale. Quando penso agli errori che commettono le persone che amano gli animali, anche il mondo animalista, è quello di proiettare le proprie emozioni su una tabula rasa. Mi viene in mente il nostro caro Rorschach, quello psicologo svizzero che inventò quelle macchie che non avevano tanto senso e in cui ogni persona riusciva a vedere quelle che erano le proprie proiezioni. In questo caso noi vediamo che un animale non ha gli stessi canali comunicativi e gli stessi elementi percettivi, manca di semantica in alcuni casi di quella che è il nostro linguaggio. Quindi quello che noi facciamo non è che proiettare le nostre emozioni e le nostre sensazioni nei confronti degli animali. Quindi uno degli errori che si fa, particolarmente quando si approccia agli animali, è quello di pensare più a se stessi che all'animale.